Italia. Tempi rapidi, per la nuova legge sulle provinciali che restituirà il voto ai cittadini per l'elezione del Presidente e dei Consigli Provinciale. Il testo, ampiamente discusso e già licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali, secondo alcune notizie che giungono da Roma, potrebbe arrivare in aula già prima della pausa estiva, in programma dall'8 agosto, per una prima lettura da completare, a settembre, ed in ogni caso prima dell'avvio dei lavori preparatori sulla nuova legge finanziaria. Tra i partiti di maggioranza ed anche il PD è stato raggiunto un accordo di massima sul contenuto dal testo che riporterà al voto. A questo punto già nella primavera del 2025, le province d'Italia che, dopo la riforma del Rio, pur rimanendo operative, hanno visto le elezioni di Presidente e Consiglio Provinciale nelle mani di sindaci e consiglieri comunali, con il voto di secondo livello. Grazie. Grazie. Grazie.